Dottor Diego Ponzin, medico oculista, direttore della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, quanto è importante l'innovazione nelle lenti e nella cura della cornea? Le lenti a contatto rappresentano un presidio fondamentale nella riabilitazione e sembra anche nella prevenzione di importanti malattie, non solo della cornea ma anche della vista. Quindi noi che lavoriamo in una banca degli occhi e che abbiamo fatto della cornea il nostro credo, siamo attivamente impegnati proprio nella ricerca per trovare sempre soluzioni nuove anche attraverso lo sviluppo di nuove lenti a contatto per questi approcci di cui parlavo prima. Non tutti i cittadini conoscono l'importanza della banca degli occhi, spieghiamo cos'è. In effetti la banca degli occhi è un laboratorio molto particolare e gli sforzi che facciamo per rendere nota la sua attività non sono mai abbastanza. Una banca degli occhi esiste se nella popolazione c'è la propensione alla donazione dei tessuti oculari. La banca degli occhi è il luogo che riceve i tessuti oculari che vengono donati a scopo di trapianto. In Italia esiste una norma che assicura il rispetto della volontà del donatore, quindi qualsiasi persona può esprimere in vita la propria volontà alla donazione dei tessuti oculari. Di questa volontà si fanno testimoni i familiari e questo contribuisce ogni anno a ridare la vista a migliaia di persone. E all'interno della donazione organi oppure è un'autorizzazione separata? La donazione delle corne nel 90% dei casi avviene dopo una diagnosi di morte con criteri cardiologici, quindi avviene al di fuori dell'ambito della donazione multiorgano. La donazione multiorgano è una donazione molto particolare che richiede che la diagnosi di morte sia effettuata con criteri neurologici. Ingegner Paolo Ragneri, per quanto riguarda il flusso laminare immobile per intravitreali, cosa possiamo dire ai cittadini? Il flusso laminare è sicuramente una delle strategie oggi utilizzate per mantenere il basso il tasso di infezione post-operatoria. In assoluto il rischio infettivo collegato agli impianti aerolici e quindi alla qualità dell'aria è scientificamente dimostrato essere estremamente basso, in particolare per quanto concerne le chirurgie ultrapulite come nel caso delle intravitreali che presentano lo stesso tasso di infezioni di tutte le altre iniezioni normalmente praticate all'interno degli ospedali. Ciò non toglie che esista un problema di liste di attesa per quanto riguarda il trattamento delle intravitreali che comporta inevitabilmente l'opportunità di dislocare dalle sale operatorie al territorio questo genere di trattamenti. Oggi l'Italia è uno dei paesi che eroga al paziente il minor numero di intravitreali rispetto ad esempio al 3-4 all'anno rispetto alle 8-9 del mondo anglosassone e di conseguenza se il flusso laminare può favorire una dislocazione territoriale rasserenando anche gli animi dei pazienti può essere sicuramente una scelta da considerare.